La Guardia di Finanza di Pesaro sta eseguendo in provincia ad Aqualagna e in altre città italiane perquisizioni e sequestri di bevande alcoliche con stemmi e marchi delle fiamme gialle dei carabinieri. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Urbino hanno consentito di individuare una società di Aqualagna che produce e commercializza, senza alcuna autorizzazione, bottiglie di liquori con stemmi ed immagini distintive della Guardia di Finanza e dei carabinieri. Le Forze Armate, spiega una nota della Guardia di Finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Norme specifiche consentono, previa autorizzazione, l'uso di tali segni nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine degli enti stessi. Le investigazioni, oltre allo stabilimento di confezionamento di Aqualagna, hanno consentito di individuare alcuni rivenditori a Bari, Milano e Palmi che risultano commercializzare le bevande alcoliche anche online. I cinque amministratori delle ditte individuate sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Urbino per aver utilizzato stemmi ed emblemi al fine di trarne profitto. Sono in corso di accertamento analoghe violazioni per l'uso in debito di marchi di altre Forze Armate.